Questa esperienza è stata un po' particolare per me. Dopo aver fatto l'audizione qui mi sono resa conto che un artista può anche esprimersi in in altri modi, in modi differenti. E ho capito che in realtà mi piace fare proprio quello. Mi piacerebbe tantissimo far parte di un musical. Ho capito che era realmente quello che volevo fare, perché mi sono ritrovata appunto a mettere a confronto me stessa con delle esperienze totalmente nuove, come ad esempio la recitazione, che è qualcosa che davvero mi ha sconvolto, perché è qualcosa che non avrei mai potuto pensare di poter fare in quel modo. Ho anche il canto, basta applicarsi, studiare, dedicarsi alla materia e tutto si riesce a fare. Mi sento davvero migliorata, mi sento diversa dal primo giorno. È davvero una sensazione particolare, ma è bellissimo. È bellissimo poter dire danzo e ci metto l'espressione che però ho coltivato facendo recitazione. Quindi sono felicissima e spero di poter realizzare tutti questi sogni che ormai sono diventati tantissimi, però mi sento fortunata a dover dire. Ho tanti sogni perché secondo me sono proprio la benzina per la determinazione e la costanza nell'inseguire qualcosa e raggiungerlo. Spero che tutte queste cose possano avverarsi. possono avverarsi. Grazie. 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 Grazie.